Senta interagiamo anche noi Sicuro Anche se non è tipo a spararlo Perché c'è scritto difendi la nostra realtà Sì, la madonna Cazzo fa Sì, è figo Figa Mi guarda dall'alto in basso Mi dà passito anche a me questa roba Mi chiamai norme Perché sono il suo testicolo terra Ma neanche Mi batte per lui Sì, è cattivissimo Su me è dall'altra parte, si potrà qualcosa Ecco No, oggi non succede niente E io sto aspettando un'arrivo di qualcuno Oh Oh Attenzione Galactus ha fame Sì, ma non è neanche arrivato dentro la mappa Oh, mi tiro un pugno Oh 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 Galactus Non deve divorare il punto zero Mica devi da fare , Gagli un cron Io sono proprio di affrontare la sua mano Io vado in posizio 0 Oh, è entrato in azione! Rilevo valori energetici fuori scala Sto lontanato Secondo i miei calcoli, se Calactus continua ad assorbire il punto zero a questo ritmo Assisteremo al collasso dell'intera realtà tra... Non importa, il punto è che dobbiamo muoverci Sai guidare un boost per la battaglia? Ho vado trasporto? E... andiamo! Forza! Oddio tutti i bus, guardati attorno Oddio, ti puoi muovere dentro eh? Sì, sì, lo so, ma cosa devo fare? Oh, Iron Man davanti allo sterzo Ti sono preso la libertà di armeggiare un po' con la tua realtà Una cosa da nulla, mi ringrazierai dopo Ho sviluppato la pomo, dedicato all'affare dei loop temporali Creato miliardi di bus della battaglia e li ho trasformati in bombe Dobbiamo far mangiare a Calactus più bus possibili prima che... Li voli il punto zero Se andrà tutto bene, si aprirà un portale per riportarlo da dove è venuto Droni offensivi! Carino! Speravo di poter trovare i cannoni laser del boost della battaglia Provo! Speravo di poter trovare i cannoni laser del boost della battaglia Faccio il risultato, non ci riporto! No, non, non vedi che mi hanno rato! Si, inizialmente, non ha un altro Speravo di poter trovare i cannoni laser del boost della battaglia Eh, io sì, sono la Bessie. La visuale è invertita. No, ma è al contrario. Ah, no. Oh, ma sto preparando? Oh, è bellissimo. È terribile sì. Ok, non agitarti ma ti ha notato. Ehi biondo! Sì che malista! Ehi biondo! Vai torno! Vai torno! Opa! Opa! E' un'altra cosa. oh oh mamma E' lo soppare giù Mì, c'è qua, ho fatto i boost no 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 grazie autista ma parto il candalo telefono ma ti ricordi che nell'evento di mida c'era esatto questo si in realtà alternativa un universo parallelo ma connessione in corso no però volevo il galactus spaccasse tutto eh sennò sai quante magia si devono fare se devono spassare tutto con la guerra per gli altri Avengers ma mi è uscito impossibile connettersi eh vuol dire che ma bravo